La confraternita, conosciuta con il nome anche di arte, di fraternita, di società, di compagnia, univa nel Medioevo due sfere della vita, che per i contemporanei erano parti complementari di un intero. La sfera spirituale e la sfera temporale. Siamo abituati a pensare che la confraternita avesse una funzione principalmente religiosa. Per esempio la confraternita compiva atti di devozione in onore di un santo patrono, assicurava il paradiso a chi ne faceva parte. In realtà la confraternita favoriva anche le relazioni sociali, creavano cioè un ambiente in cui sviluppare una rete di rapporti, rapporti professionali, rapporti persino politici. La compagnia dei laudesi di Orsanmichele era la più grande e la più ricca associazione religiosa di laici nella Firenze del Trecento ed era molto attiva al pari di altre associazioni confraternali nel campo assistenziale. Si era per questo dotata di una prassi amministrativa per la gestione dell'elemosina. La curata analisi compiuta dallo storico anglosassone John Anderson nel volume Pietà e Carità nella Firenze del Basso Medioevo sulla documentazione della confraternita e in particolare sui registri contabili dell'ente offre una veramente mole di dati relativi alla distribuzione di elemosine. L'elemosina appare nella Firenze del Trecento regolata su due livelli. C'era l'elemosina generale della città a cadenza almeno annuale e una distribuzione cosiddetta particolare. La prima elemosina era di cinque soldi, mentre più generoso era il sussidio che era offerto dal sistema delle cosiddette polizze suggellate, cioè lettere che erano chiuse e approvate dai capi della confraternita, cioè i capitani di Orsanmichele. Capitani che potevano autorizzare degli esborsi da 10 a 40 soldi a favore di uomini e donne scelti dalla confraternita stessa. L'elemosina annuale in città era effettuata per così dire a domicilio ed era accompagnata dalla registrazione dei poveri e delle quantità di denaro che venivano donate, che venivano sborsate. Per ogni sesto di Firenze il camarlengo, ovvero l'amministratore accompagnato da uno o più abitanti del luogo, distribuiva i denari alle famiglie in difficoltà. Dunque famiglie che erano conosciute dalla città, che erano conosciute dal vicinato come bisognose. La registrazione che veniva effettuata prevedeva che fosse specificato il nome, il soprannome, la casa in cui il povero abita e anche il popolo dove si trova la casa. Il capofamiglia firmava una scheda dove c'erano scritti il nome, la via e i motivi dell'assistenza, oltre naturalmente all'ammontare del sussidio. Le schede venivano quindi riportate all'ufficio della compagnia, copiate il registro e conservate in una cassetta, nello stesso ordine in cui erano state trascritte. Le distribuzioni cosiddette particolari, sempre effettuate dai camarlenghi, erano stabilite ed autorizzate dai capitani attraverso, come dicevo, una lettera chiusa. Anche qui un libro teneva memoria dei pagamenti e lo statuto della confraternita disciplina minuziosamente le forme della registrazione. Nel libro andava chiaramente scritto a chi e perché si dava l'elemosina. Si legge infatti nello statuto non basti scrivere a una famiglia povera o vergognosa o a coloro a cui dissono i capitani, i paperes selezionati dovevano essere registrati per nome e per cognomi.